ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi vi voglio parlare di un evento che si svolgerà dal 5 all 11 febbraio ragazzi questo evento qui che state vedendo in video che si svolgerà in questi giorni in pratica questo evento come andremo a vedere in seguito parla di non è che parla non parla non dice anche a questo evento comunque da enormi vantaggi in pratica enormi vantaggi in questo periodo insomma è una settimana bonus diciamo dal 5 all 11 febbraio e dove ci sono dollari gta e rp doppi in quasi tutte le attività comunque in tutte le attività ragazzi poi ci sono degli degli sconti quindi possiamo per esempio che ne so diventare boss alla metà del prezzo come state vedendo quindi comunque penso che parecchi vantaggi li trarremo da questo da evento anche dei benefici insomma no anche perché se andiamo a vedere ci sono dei sconti su dei veicoli su parecchie cose insomma quindi penso che sia una cosa abbastanza abbastanza buona anche perché per esempio chi non aveva soldi per comprare lo yacht adesso può comprare lo yacht e personalizzarlo ma ci stanno parecchi sconti ragazzi approfittate e per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti